Buongiorno e buon weekend. Anche oggi facciamo i messaggi degli angeli custodi. Vediamo un po' cosa vi dicono gli angeli. Allora, guaritore di abbondanza, stai certo di fare sempre la differenza. La tua creatività e la tua capacità di rinnovare ti portano al successo. Potrebbe essere il momento giusto per espandere il tuo giro d'affari. Ma ricorda di dedicare tempo alla famiglia. Questa situazione coinvolge una persona, forse tu, con i piedi per terra, dotata con il design e la decorazione di interni e di aperte vedute e molto disponibile. Questo è il messaggio di oggi. Vi auguro una buona giornata.